Buongiorno, siamo qui a Ergifi a Roma insieme all'Accademia Opati. Io sono Italia Gresta dell'Associazione Nazionale Persone con Malattie Aromatologiche Rare. Oggi stiamo seguendo il modulo sull'HTA. Siamo al quinto modulo. Il corso è cominciato un po' di mesi fa. Siamo tanti corsisti che stanno studiando per capire tutte le fasi di sviluppo dei farmaci. È un corso importante perché ci dà una formazione specifica e ci rende pazienti esperti. Ringrazio l'Accademia Opati per questa formazione che ci ha dato, questi strumenti materiali che ci hanno consegnato e sicuramente saremo dei pazienti esperti che potremo disseminare nel territorio tutto quello che abbiamo imparato. Ringrazio con tutto il cuore Silvia per tutto il sostegno morale che mi ha dato. Ciao!